Due giornate con la Befana per i bambini di Sanza che sabato 5 e domenica 6 gennaio vivranno intense emozioni grazie all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. Il 2018 si è chiuso con la musica del gran concerto di fine anno. Il 2019 si apre invece tra feste e sorrisi grazie all'iniziativa organizzata in collaborazione con il CAI dal titolo La Befana Vien di Giorno. La festa inizierà sabato 5 gennaio con l'arrivo della simpatica vecchietta che alle ore 18 raggiungerà a cavalcioni della sua scopa Piazza 24 Maggio per distribuire ai bambini caramelle e dolciumi. Si tratta di una Befana speciale, membro del club alpino italiano, amica del nucleo della protezione civile di Padula. Arriverà dal Monte Cervati appesa ad un cavo d'acciaio fino a raggiungere Piazza 24 Maggio dove ad attenderla ci saranno gli escursioristi del CAI per la festa. Una festa che continuerà domenica 6 gennaio quando la Befana, a bordo della sua scopa, raggiungerà le ore 17 all'aula magna delle scuole medie e insieme ai bambini seguirà il saggio di danza della New Dance All Dance accompagnata dalla DJ Service. A seguire, protagonisti dello spettacolo saranno due bravissimi cantanti del territorio. Totino Melillo e Velia Imparato, entrambi in questi giorni impegnati nella promozione dei loro lavori discografici, saranno a stanza per regalare momenti di grande musica. I due giovani artisti valdianesi che con le loro canzoni e la loro voce stanno incantando il pubblico con importanti successi anche fuori dai confini del territorio, domenica sera si esibiranno a stanza presentando i brani dei loro ultimi lavori discografici. Totino Melillo canterà le canzoni contenute nel CD Cagna Studisco e Velia Imparato si esibirà con i brani inediti del CD Libera. Grazie a tutti.